Per l'idea web siamo con Paolo Fogliatto, tecnico della Roretese. Mi sarà all'inizio, partita un po' bloccata, sostanzialmente anche equilibrata a livello di occasioni. Poi voi l'avete sbloccata su calcio di rigore, anche con l'esperienza di Pollina. Nel secondo forse avete partito un po' l'inizio di partita dell'Infernotto, che vi ha messo un po' in difficoltà, ma poi siete stati in gestione, siete stati bravi anche a ripartire e a raddoppiare poi in contropiede. Si può guardare anche il ritorno a Barge con una certa sicurezza, ovviamente senza sottovalutare però l'avversario. Sì, abbiamo incontrato una buona squadra, lo sapevamo. Noi vogliamo andare avanti in questa competizione, come ho detto ai ragazzi stasera, perché è una competizione ufficiale, sono guardie importanti, tanto come quella del campionato. Le utilizziamo, come vedo che fanno comunque anche altre squadre, per fare minuti a chi ne fa di meno normalmente. Però io stasera sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, molto molto soddisfatto, perché i ragazzi sono anche un campo concentrati, attenti, hanno fatto bene. L'unico dispiacere, secondo me, è che per il numero di occasioni create forse il risultato poteva essere anche un po' più rotondo. Però la prestazione è stata buona, io quando facciamo delle buone prestazioni sono sempre contento. Grazie, mister. Grazie a tutti.